Bigotten, per quanto mi risulta, è uno dei film in assoluto più bizzarri e incomprensibili mai visti su uno schermo. Mescola al proprio interno trama e messaggi criptici, che diventano chiari, forse, solo alla fine, lasciando lo spettatore quasi tramortito nel mentre. Ce ne vuole ad essere onesti perché un art house puro del genere sia seriamente equiparabile alle allucinazioni linciane o al limite alle complesse simbologie annidate negli oscuri horror nipponici o tedeschi, ma nel frattempo il pubblico rimane annichilito e della visione alla fine dei conti sopravvive poco o nulla. Guardare Bigotten per intero è un progetto cinematograficamente suicida, una mission impossible da effettuarsi con tempi e modi quasi anacronistici rispetto alla fruibilità usa e getta delle serie tv e dei cortometraggi virali. Bigotten è un viaggio di sola andata che potrebbe cambiare per sempre la vostra idea di cinema o più probabilmente farvi maledire il regista Merige a vita. Se si riesce a vederlo tutto senza sbirciare la trama prima, tanto meglio, ma il senso del film rimane sproporzionatamente più piccolo rispetto al linguaggio utilizzato, come una fiamma che brucia l'oscurità, la vita e carne su ossa che si agitano sulla terra. Questa enigmatica frase chiude l'introduzione dell'opera di Elias Merige, regista sui generis molto debitore dell'espressionismo, suo anche il film L'ombra del vampiro. Il regista di Bigotten vuole stupire, questo è certo, e presenta un film essenziale, girato in bianco e nero, senza dialoghi, con lo scopo di disturbare, causare shock e in certa misura far discutere. Ma attenzione, qui non si tratta degli equilibrismi simbolici azzardati da Batgerate in Derto Desking, i quali, nel loro morboso realismo, si mantengono sia pur vagamente comprensibili. La tendenza all'ermetismo di Bigotten è molto più estremizzata, ancora più accentuata nel mostrare crudeltà e violenza, e questo senza che ci siano dialoghi nel film e senza una trama che risulti lampante. Quindi è peggio ancora, se possibile, perché in più parti lo spettatore non capirà cosa si stia guardando, e non è detto che questo sia un bene. Nessun dialogo, nessuna musica, nessun vero punto di riferimento sull'intreccio, se non strane figure mascherate e incappucciate, che effettuano strani rituali e sembrano vivere fuori dal tempo. Probabilmente, se non altro, un espediente efficace per obbligare il pubblico a vedere il film fino alla fine, prima di emettere giudizi. Bigotten letteralmente significa generato, il che suggerisce che il film abbia a che fare con il processo della nascita, e sembra essere proprio così. Ad un secondo livello, bigotten, sembra un termine utilizzato a livello mistico-religioso, con frasi che richiamano al concetto di unigenito, l'unico generato nella teologia cattolica è Gesù. Il suicidio di un uomo mascherato all'inizio, il parto di un umanoide tremante, sevizie e violenze di gruppo, rappresentazione di un orrore senza redenzione, senza motivazione apparente, e ampio spazio alla rappresentazione della natura, tramonti, albe, alberi, vegetazione in generale. Per il resto preferisco non approfondire la trama perché in fondo è davvero essenziale e sarebbe imperdonabile banalizzarla attraverso la sintesi. Alla fine bigotten non è altro se non un'insostenibile carovana di orrore da cineforum, reso suggestivo da determinati tipi di inquadrature ed accortezze stilistiche, ed è fondamentalmente distante da qualsiasi stile riconoscibile. Certo, si può parlare di sperimentazione pura, ma questa è un'arma a doppio taglio per cui lo spettatore potrà in molti casi, comprensibilmente, abbandonare la visione dell'opera dopo neanche 15 minuti. Prendere o lasciare in qualche modo, resta il fatto che bigottene insostenibilmente violento, molto esplicito, va visto con molta attenzione perché è facile disorientarsi al suo interno. Il rischio è che il tutto venga declassato a un delirante radical chic intellettualistico, fine a se stesso, insomma. Un rischio, a dirla tutta, abbastanza fondato, che serve più che a sminuire il gusto e le doti artistiche di marriage che sono fuori discussione, a mettere in guardia il suo pubblico, chiunque esso sia, a capire un cinema fuori dal tempo. Se lo spettatore regge fino alla fine del resto, solo dai titoli di coda riuscirà a comprendere il senso dell'opera, e non è detto che l'epifania sia soddisfacente. A molti, tanto per dare un'idea in più, sembrerà di vedere uno spettacolo teatrale di Beckett di quelli più contorti, espressi in chiave horror concettuale. Al di là del tema dell'ambientalismo, secondo me, diventa complesso fornire interpretazioni ulteriori che sconfinerebbero, a mio avviso, in discorsi privi di senso. Tutto sommato l'idea è stata buona e nessuno mi toglierà dalla testa che come cortometraggio sarebbe stato decisamente più efficace e non necessariamente più appetibile, che è una cosa ben diversa. A dirla tutta, come accennavo poco fa, l'idea è tutt'altro che stupida, solo che marriage non possiede il dono della sintesi o vi rinuncia deliberatamente, finendo per declinare il tutto in una sorta di elitarismo intellettuale. Forse, inoltre, si dilunga troppo a spaventare, disgustare e insistere sui dettagli poco chiari, col risultato che, alla peggio, rischia soltanto di annoiare. Le scene presentano comunque una fotografia considerevole, tanto che il regista ha affermato che ogni singolo minuto di girato, 72 in tutto, ha richiesto ben 10 ore di lavoro in fase di creazione dell'effetto pellicola consumata, del tutto priva di mezzi toni. Ogni modo, un film che gli appassionati di sperimentazioni orrorifiche e psichedeliche potrebbero gradire e, in ogni caso, si tratta di una delle più importanti pellicole di tutti i tempi a livello sperimentativo. I più curiosi a questo punto vorranno certamente provare a vederlo.